Non abbiamo nessun timore perché queste risorse sono già state formalmente assegnate e contratualizzate. Che cosa vuol dire? Che ci sono delle obbligazioni giuridiche, vincolanti, esigibili, del Ministero nei confronti del Comune di Genova che finanziano questi interventi e del Comune di Genova che si deve impegnare a realizzare questi interventi entro determinate scadenze. Quindi questi fondi, se noi rispettiamo i nostri tempi così come stiamo facendo, non sono in alcun modo revocabili. Dopodiché, se la polemica è che il Governo sta facendo una rimodulazione dei propri programmi di spesa, ha tutto diritto di farlo. A me, capito, non interessa niente che un progetto sia finanziato con PNRR o con altre risorse a carico del bilancio dello Stato. A me interessa che le risorse che ci hanno già erogato vengano mantenute e noi possiamo finalizzare gli interventi. Sarà sicuramente così, quindi non sono assolutamente preoccupato né su questo intervento qui né su tutti gli altri che sono finanziati sulla stessa linea che si chiama Piani Urbani Integrati su cui c'è tutta la discussione a livello romano e che noi stiamo già implementando sia nella Valpocevera che nella delegazione di San Piero d'Arena.